Un itinerario turistico e culturale inserito all'interno del percorso saggistico di passaggi. Otto eventi che dal 21 giugno arricchiranno il festival, giunto alla quinta edizione, con un programma che focalizzerà l'attenzione sui linguaggi espressivi di artisti che tramite pittura, fotografia, illustrazione e design si esprimeranno negli spazi espositivi dedicati. L'arte è a tutto tondo, a 360 gradi, quindi la letteratura, la musica, l'arte visiva e contemporanea in questo caso e quindi abbiamo voluto addirittura anticipare il festival. Quest'anno la grande novità è questa che partiamo il 21 giugno invece che il 22 con gli eventi letterari che poi si concluderanno il 25 giugno, invece le mostre alcune rimarranno aperte dal 21 giugno al 16 luglio. Quindi saranno degli eventi nuovi. La fotografia sarà la protagonista della giornata inaugurale alla chiesa di Sant'Arcangelo e al Caffè Centrale per poi proseguire allo spazio Arco Borgia Cibo. La Memoteca Montanari darà spazio invece ad installazioni temporanee, immagini virtuali e design mentre a San Pietro in Valle la pittura sarà protagonista con otto artisti, sei dei quali marchigiani e dove la location sarà arricchita dalla proiezione di video sia a parete che a pavimento. L'appuntamento al Caffè Aurora concluderà questo percorso culturale dove fino al 23 luglio rimarranno esposte le foto degli artisti che hanno partecipato. Perché otto mostre d'arte di fatto in diversi luoghi del centro storico significano intanto opportunità anche di altri linguaggi di affrontare un tema come quello dell'amore al tempo dell'odio che è il tema di quest'anno. Peraltro i temi convincenti scelti in queste cinque edizioni da passaggi ne hanno decretato il successo popolare perché sono temi molto vicini al quotidiano vissuto da noi tutti. Ma le mostre, mostre di design, fotografiche, di pittura, di talenti veri e propri che raccontano questo tema con altri linguaggi potranno appunto assecondare anche altri gusti anche altri atteggiamenti e poi raccontare la nostra città. Non dimentichiamo che i passaggi che hanno una grande partecipazione popolare e anche di turismo è un ottimo motivo di promozione della città. Quindi il turista può fare tutto quello che deve fare un turista in vacanza perché le ore di passaggi sono quelle appunto dopo il bagno, dopo la spiaggia o dopo la passeggiata nell'entroterra e quindi è un mix sicuramente vincente.